Siamo qua su Lerdolomidi, Lerdolomidi. Abbiamo parene! Che cosa guarda parene? Guarda parene che suona il sax, o il sex. Ma, ma è lui o non è lui? È un mento degli Orofino! Abbiamo la signora che è un po' arrabbiata perché si gira spesso. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!